Il nuovo focus è dedicato alla politica partendo dalla nostra regione per allargarci poi alla politica, all'agenda politica nazionale. Quest'oggi lo faremo in compagnia di Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della commissione speciale Industria 4.0. Buongiorno, ben trovato, come sta? Buongiorno a voi, bene, bene. Dunque, consigliere, partirei dalla tematica più urgente del momento, ovvero l'autonomia differenziata dopo tanto attesa l'approvazione in consiglio dei ministri del disegno di legge Calderoli. Sembra essere purtroppo un destino già segnato, è così? Io mi auguro fortemente di no, è stata fatta anche tanta propaganda in questa fase storica di regionali nel Lazio e in Lombardia, hanno intensificato il tiro proprio su questo argomento che attrazione lega. Il problema è che quel disegno di legge ci preoccupa tantissimo, perché, diciamo, basta leggere su quali criteri si poggia, quindi sul criterio della spesa storica per quanto riguarda la ripartizione poi dei fondi da dare alle regioni per gestire altre competenze. E poi c'è la questione legata al fatto che non si definisce, diciamo, a priori, ciò che riguarda i livelli assistenziali fondamentali, sia nel campo sanitario, proprio le prestazioni che devono essere garantite in tutta Italia, non in alcune regioni sì e in altre regioni no. Questa cosa qua viene rinviata al momento successivo. È la cosa che lascio più perplessi che non viene rinviata una discussione in Parlamento, ma viene affidato poi agli uffici della Presidenza del Consiglio. Quindi, spodestando anche il Parlamento su una discussione importantissima, su un argomento che sta alla base di questa situazione. Questo ci spaventa tantissimo, perché vuol dire avviarsi verso una strada dove, diciamo, gli effetti di questo percorso... Sono già annunciati. Eh sì, perché la spesa storica vuol dire che le regioni che già spendono tanti soldi perché sono più efficienti, hanno i conti in regola, insomma, come quelle del Nord, avranno più soldi rispetto a quelle del Sud, che pagano lo scotto di cattive politiche anche, diciamo, del passato. Tra l'altro, proprio per questo motivo, lei si è spinto chiedendo intervento alla Premier, no? Quali saranno i prossimi passi, secondo lei, per arginare la bozza, parte della bozza Calderoli? Ne faremo un lavoro in Parlamento, diciamo, anche emendativo, insomma, fatto anche di sensibilizzazione. Ci sono tantissimi costituzionalisti che stanno organizzando anche delle petizioni. Quindi il mondo anche intellettuale e legato, diciamo, alla Costituzione, si sta facendo già avanti, insomma, per far capire che bisogna assolutamente, quantomeno, modificare quelle che è l'architrave proprio di quel disegno di legge. Io spero che, alla fine, poi, fuori dalle elezioni, ecco, delle regionali, che ormai ci siamo, la Meloni si ravveda su questo argomento e tiri un attimino il freno a mano, perché veramente in un momento storico così difficile, l'ultima cosa che ci possa capitare... Sarebbe una vera e propria spaccatura fra Nord e Sud. L'ivario Nord e Sud, purtroppo, ma non è retorica, purtroppo, dico, già esiste, perché le regioni del Sud pagano già lo scotto in tanti settori, abbiamo visto con la pandemia cosa è accaduto nel settore sanitario. Certo, c'è una cattiva gestione, che noi, diciamo, denunciamo ogni volta, anche della politica, però c'è un problema anche di fondi che vengono tagliati sempre di più alle regioni che già vivono delle difficoltà. A proposito di fondi, parliamo anche del reddito di cittadinanza. In un'altra nota dolente al centro di dibattito politico pubblico, lei ha ribadito, tra l'altro, la mancanza da parte del governatore Di Luca di non aver stanziato i fondi del governo Conte per lo sviluppo dei centri di impiego. Ecco, questa mancanza adesso andrebbe a penalizzare, quindi a ricadere, sui bilanci, sui conti, ma in realtà sulla comunità tutta. Sì, perché l'errore, purtroppo, che si ripete ogni volta che si parla del reddito, è focalizzarsi unicamente sui soldi che vengono dati, diciamo, ai cittadini che sono in uno stato, diciamo, di difficoltà per essere poi inseriti in politiche attive del lavoro. Ci si dimentica però che quella norma è scritta in un modo tale da coinvolgere le regioni per quanto riguarda i centri per l'impiego, i comuni per quanto riguarda i progetti da far partire di pubblica utilità. Questi enti, purtroppo, non si è capito il motivo, o meglio, si è capito, perché molte regioni a trazione centro-destra hanno boicottato, insomma, la misura. Ma, dico, anche quelle di centro-sinistra, come quella a Campana, insomma, dove De Luca, insomma, ha fortemente osteggiato anche, per esempio, il lavoro dei navigator, facendogli perdere dieci mesi di lavoro, non, diciamo, firmando il protocollo d'intesa che invece era stato previsto a livello centrale. Insomma, c'è stato proprio un atteggiamento della politica su questa legge, che è l'unica legge, lo voglio ripetere a Ioso, perché è l'unica legge attualmente in Italia che guarda i più deboli, che guarda i poveri, che guarda il padre di famiglia che ha perso il lavoro. E in un momento così difficile, con la pandemia, che ci sta, fortunatamente, diciamo, mamma lasciando. Però abbiamo adesso altre progolette, l'inflazione che cresce all'estima di smisura, quindi abbiamo altre problematiche. L'aumento del costo anche della vita, legato, diciamo, agli aumenti che sono schizzati per quanto riguarda le energie elettriche, il gas. Senta, però volevo un suo pensiero, appunto, perché abbiamo parlato anche del governo, perché lo stesso governo ha deciso di depotenziarlo, notevolmente. Però nel frattempo che cosa fa? Decide di sostenere la misura in Europa dando il via al reddito minimo. Quindi sembra essere un po' un atteggiamento controverso, c'è una sorta di contraddizione. Allora dove sta la verità? C'è una contraddizione continua, e questo bisognerebbe chiederlo proprio al presidente Meloni. Insomma, se tu in Italia già hai dichiarato e hai definito che da luglio in poi agli occupabili vai a cancellare questo reddito, dichiarando anche di sostituirlo con delle politiche attive sulla formazione, ma ripeto, fra 4-5 mesi arriva luglio. Di questi corsi di formazione non si vede neanche l'ombra. Quindi ha dichiarato di eliminare la misura prima agli occupabili e dal 2024 a tutti gli altri. Ma purtroppo in Italia, diciamo, una legge che vada ad essere un salvagente sociale per chi sta peggio, ci deve essere, perché in tutti i paesi europei, civili, insomma, esiste già. È solo l'Italia che non si capisce il motivo, perché ogni volta che si parla di qualcosa che deve andare a dare una mano ai cittadini, chi sta peggio c'è chi. Dare una mano ai cittadini. Allora io le chiede, il Movimento 5 Stelle, come intende muoversi per tutelare la misura del reddito? E a proposito, proprio il Movimento 5 Stelle, si è fatto promotore, proprio lei in prima versura, firmatario di una proposta di legge super bonus regionale. Di cosa si tratta? Come potrebbe aiutare parte dei cittadini? Che dicevo, è assurdo che abbiamo davanti un governo che anziché dare una mano ai più deboli, a dare una mano, diciamo, a potenziare quelle leggi che hanno funzionato, come per esempio il super bonus, che ha dato a tante famiglie la possibilità di riqualificare gli immobili, di efficientarli a costo zero, perché il funzionamento del super bonus è legato alla circolazione dei crediti fiscali. Lo si va a smantellare. E allora, che cosa abbiamo fatto noi? Poiché la Presidente Meloni ha rinnegato anche le promesse fatte al mondo dell'edilizia, tutto l'indotto legato al super bonus, che aveva promesso, insomma, che sarebbe intervenuta sullo sblocco poi dei crediti fiscali, abbiamo presentato una legge regionale per rendere la Regione Campania parte attiva in questo, diciamo, circuito. Cosa è accaduto? Allora, le famiglie privati che volevano accedere al super bonus cedevano il credito fiscale riconosciuto dallo Stato, del 110%, alle aziende che materialmente eseguivano il lavoro e le aziende lo cedevano a loro volta alle banche per monetizzare il credito. Fin quando le banche hanno avuto la capienza fiscale, il sistema ha funzionato. Quando le banche hanno saturato quella capienza fiscale, si è creato il cortocircuito. Allora, noi che cosa diciamo? Poiché il Governo centrale non è intervenuto, nonostante gli emendamenti che avevamo presentato e le sollecitazioni in Parlamento. chiediamo alla Regione di stanziare dei soldi per comprare quei crediti e metterli in compensazione con i tributi che deve dare allo Stato. Si tratta di milioni di euro al mese. È una cosa che si può fare, che la Sardegna già sta facendo, che la provincia di Treviso già sta facendo, quindi parlo di un qualcosa che è già in atto altrove. La Regione riuscirebbe ad ottenere anche delle economie da reinvestire. Diciamo, ci auguriamo che De Luca non faccia istruzionismo solo di bandiera, ma che si renda conto che nella sola città di Napoli abbiamo 5.000 imprese, 5.000 imprese ferme per assenza di liquidità. E questo è un aspetto molto importante. Bisognerebbe supportare, restituire proprio la liquidità alle aziende per dare la possibilità alle stesse di lavorare. E a proposito il tema del lavoro passa, altra nota donente, passa inevitabilmente anche dal rinnovamento delle nostre aziende messe a dura prova, come diciamo prima, prima dalla pandemia, poi dalla guerra. Lei, che è Presidente della Commissione Bilancio Industria 4.0, però appunto sta visitando molte realtà aziendali sul territorio. Che cosa si prospetta quindi per Industria Campania? Quanto, da lei ha detto, questa proposta può aiutare le stesse a risollevarsi? E cosa manca ancora per renderle poi competitive, non solo nel nostro sud? Diciamo che è fondamentale ascoltare il tessuto produttivo per capire anche i problemi attualmente esistenti. Le aziende hanno bisogno di consulenza per l'efficientamento energetico, di riconvertire taluni, diciamo, asset proprio della produzione. Noi già mesi fa avevamo avviato un circuito, diciamo, un ciclo di audizioni con proprio il mondo produttivo per farci pervenire anche degli input. E avevamo sviluppato una risoluzione che ha impegnato anche l'Aggiunta a fare alcune cose. Come per esempio dei check-up pagati dalla Regione per le piccole e medie imprese che non superassero, diciamo, 50 dipendenti per verificare anche la dispersione energetica che queste aziende hanno perché magari sono dotate di circuiti vetusti rispetto alle nuove tecnologie. Devo dire purtroppo però che siamo molto lenti sotto questo punto di vista. C'è tanta buona volontà, tante belle parole. Siamo nell'era digitale, siamo nell'era in cui bisogna investire risorse e c'è il PNRR, ma abbiamo una burocrazia e una regione che purtroppo veramente va a passo di lumaca. È un'occasione che perderemo. Ecco, come farci trovare pronti in ottica appunto di prospettiva all'insegno del rinnovamento che possa essere quello del digitale, dello sviluppo sostenibile, l'innovazione, no? Su queste asse di elettrici. Come farci trovare pronti se appunto tra pochissimo dovranno giungere i fondi del PNRR? Probabilmente le nostre aziende non sono pronte, non ricevere pronte perché non c'è un programma in atto al momento. Serve una cabina di regia che possa andare a monitorare anche la spesa di queste risorse. L'avevamo chiesto e purtroppo è un qualcosa in cui, ripeto, si va veramente lenti. La cosa che faremo è che faremo altre audizioni, ecco, sul tema del super bonus che è anche legato al processo di efficientamento energetico, soprattutto, per mettere questo tema tra le priorità di una regione che ha anche altre priorità. Ma questo è un tema fondamentale perché si tratta di investimento, si tratta di efficientare le aziende, di renderle più competitive sui mercati, perché è un'azienda che si attrezza. E solo partendo da l'innovamento delle aziende che possiamo rendere le stesse competitive. all'avanguardia, se non ti innovi, rischi di rimanere fuori dai mercati che attualmente corrono, come quelli degli altri paesi europei, come quelli anche delle altre regioni d'Italia. Quindi PNR diventa indispensabile? È strategico, è l'unica occasione, sono le uniche risorse a cui noi possiamo fare riferimento oggi per rimanere sui mercati ed essere più competitivi. Grazie, grazie a Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché presidente della commissione speciale Industria 4.0, oggi qui a Mattina Live, per parlare di temi che riguardano la vicinostra regione e che naturalmente si collegano anche a temi di carattere nazionale. Buon lavoro, ci ritroveremo sicuramente per prendere quale lo status quo delle proposte da lei, da Movimento, esposte. Pubblicitari, state con noi. Pubblicitari, state con noi.